Stefano Patriarca, centrale della Lube Banca Marche Macerata in origine e nella prossima stagione Sì, devo dire che per me è una gioia immensa e una soddisfazione grandissima perché da quando sono partito da casa per andare a giocare nelle giovanili della Lube da quando ho messo il piede al palazzetto mi sono sempre ripromesso un giorno di arrivare a vestire la maglia della prima squadra Finalmente questo sogno si è avverato, spero di rimanere nella Lube a lungo per dimostrare per far vedere a tutta la gente che ha scommesso su di me che hanno fatto bene Classe 1987, un percorso che ti ha visto iniziare presto a giocare a volley poi la trafila giovanili Macerata, tanti successi, poi il passaggio in A2, poi l'A1, poi l'Azzurro insomma una carriera nonostante la giovanità bella densa Devo dire che sono stato molto fortunato perché ho sempre, comunque nonostante tutto Ho avuto la lucidità mentale di fare sempre le cose per gradi non ho mai voluto strafare, non ho mai voluto arrivare in A1 a 19 anni ho sempre cercato di fare la giusta gavetta e la giusta esperienza prima in B2 e in B1 con le giovanili della Lube poi in A2 con Santa Croce e Crema fino al mio arrivo in A1 a Castellana Grotte che è stata la mia consacrazione, Castellana Grotte e l'anno successivo a Verona che mi sono valse tutti e due gli anni la convocazione nazionale quindi credo di essere stato un atleta anche con la testa abbastanza sulle spalle perché non ho mai cercato di bruciare le tappe e quindi di perdermi nel tragitto ho sempre cercato di fare le cose con la giusta mentalità con le giuste proporzioni anche quindi credo di essere stato sia bravo che fortunato Quali i ricordi, le vittorie e quali persone ricordi con più piacere della trafila giovanile? Sicuramente del settore giovanile le persone che ricordo piacevolmente ma sono tutte quelle con cui ovviamente passavo la maggior parte del tempo sono i miei allenatori Gianni Rosichini, Stefano Sposetti e Giacomo Giganti che mi sono stati sempre vicino nel percorso di crescita sicuramente il responsabile del settore giovanile della Lube che è Mario Picchio che per noi era come un padre non ci ha fatto mai mancare niente ci stava sempre addosso cercando di inculcarci sempre la mentalità giusta per stare nel mondo della pallavolo quindi a loro va un grosso ringraziamento spero quest'anno qui e gli anni a venire di dimostrare anche a loro che su di me hanno fatto un ottimo lavoro cercando di dare il mio giusto contributo al raggiungimento degli obiettivi della squadra Volendo tracciare un bilancio cosa hai visto in questi tuoi ultimi tre anni di Serie A1? Purtroppo, e dico purtroppo perché è sotto gli occhi di tutti che il campionato si stia abbassando di livello per uno che ama la pallavolo italiana e che vorrebbe giocare qui in Italia per tutta la vita è un grosso dispiacere la situazione da come riportano i giornali e da quello che sento parlare io da dentro non è delle più rose non è delle più felici stiamo attraversando un periodo economicamente difficile stiamo attraversando un periodo nella quale le squadre stanno cercando di ridimensionare il budget per via della mancanza di sponsorizzazioni e quindi questo grava indubbiamente sul livello del campionato che nonostante tutto quando vai all'estero ti dicono il campionato italiano è quello sempre più famoso del mondo nonostante le sofferenze quindi io credo che io in questi tre anni di esperienze in A1 che ho avuto mettiamoci quattro anche quello con la lube dell'ultimo anno di giovanili è stata un'esperienza bellissima è stata un'esperienza che auguro a chiunque avrà la forza di arrivare in A1 però d'altro canto sto vedendo col passare degli anni la brutta piega che sta prendendo la pallavola italiana spero che la situazione si possa aggiustare perché ce lo meritiamo ce lo meritiamo noi giovani che lavoriamo tanto ce lo merita il pubblico che comunque è sempre tanto e riempie sempre i palazzetti se lo merita l'Italia tutta perché è sempre stata una nazionale gloriosa e dobbiamo cercare di ritornare sulla falsa riga della generazione dei fenomeni Cosa ti ha prospettato la lube per la prossima stagione e per il tuo futuro? Allora, indubbiamente sono convinto che la lube tiene molto a me altrimenti non sarei mai ritornato a Macerata sono convinto che la lube facendomi ritornare a casa ha scommesso su di me quindi la voglia di scommettere su un proprio prodotto la voglia di puntare su un ragazzo che è arrivato a Macerata partendo da zero credo che sia una soddisfazione oltre che per me anche per loro se io un giorno dovessi riuscire a se io un giorno dovessi essere protagonista della lube secondo me sarebbe un successo sia mio che loro perché farebbe capire a tutta Italia quanto di buono c'è nel settore giovanile della lube e come possono crescere i giovani all'interno del settore giovanile della lube Quanto tempo Stefano Patriarca dedica della sua estate alla preparazione per la prossima stagione e quanto al divertimento? Direi che per ora l'estate la sto dedicando tutta al raggiungimento di alcuni obiettivi che mi sono stati prefissati dal preparatore atletico della lube Massimo Merazzi il quale ringrazio perché arrivare a 96 kg per me è un'impresa a dir poco ardua per chi mi conosce però ce la ce la sto mettendo tutta colgo l'occasione per informare Massimo che sono arrivato a 98 mi sono pensato stamattina quindi il traguardo è vicino non mollerò fino a che non vedrò scritto 96 perché 26 96 non mollerò e prometto qui davanti alle telecamere di Fabrizio D'Alessandro che arriverò il primo settembre a 96 kg e con un'elasticità muscolare invidiabile grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti